pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati terza domenica di avvento domenica della gioia questa domenica ci ricorda che il nostro cammino verso il natale incontro al signore che viene dunque tutta la nostra vita cristiana è un cammino da vivere nella gioia ma di quale gioia parliamo della semplice allegria del vivere di risata in risata del cercare di essere sempre divertenti no la gioia è qualcosa di più profondo è un dono del signore è frutto di una vita vissuta in comunione con lui come ha detto papa francesco la sua gioia ci riempiera dentro è come una unzione dello spirito e questa gioia ci accompagna anche nei momenti di prova di tribolazione perché è nella sicurezza che gesù è con noi e con il padre la liturgia della parola ci consegna almeno due coordinate di questa gioia la prima è la nostra gioia è nel signore la prima lettura ci prende per mano e mediante le parole del profeta sofonia dice rallegrati figlia di sion grida di gioia israele il signore ha revocato la tua condanna il signore tuo dio è in mezzo a te e ti rinnoverà con il suo amore sono parole profonde consolanti da lasciar permeare nel cuore calandole nel nostro vissuto magari in questo momento stai soffrendo fai i conti con delle cadute frequenti nel peccato magari non stai riuscendo ad amare a perdonare o stai soffrendo molto a causa di una malattia o per la parole sentile rivolte a te sostituisci magari a israele il tuo nome allora la scrittura ti dice rallegrati gioisci perché il signore ha revocato la tua condanna non sei condannato a stare nel peccato lui viene a perdonarti non sei condannato a vivere senza senso questa sofferenza lui sa farne una strada di salvezza il signore è in mezzo a te dice la scrittura ed è un salvatore potente non sei solo nel tuo dolore lui ti è vicino ti sostiene lui è per te è il tuo salvatore ed ecco la promessa ti rinnoverà con il suo amore a questo annuncio si collega il brano del vangelo che ci offre la predicazione di giovanni battista lui annuncia la prossima venuta del messia e lo fa con le sue categorie egli annuncia la venuta del più forte a cui non è degno di slegare i lacci dei sandali io vi battezzo con acqua ma egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco egli cioè vi immergerà nella vita di dio e purificherà la vostra vita questo è il significato proprio delle parole che seguono tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile con questa traduzione abbiamo perso qualcosa e si parlava di ventilabro era un attrezzo per tirare in aria il grano e farlo sbattere quando ricadeva in modo che la pelle intorno ai chicchi man mano si staccava e così le scorie venivano poi portate via questa immagine rimanda alla separazione finale al giudizio finale ma esistenzialmente ci dice un'opera bellissima che il signore vuol portare avanti nella vita di coloro che credono in lui cioè purificare il cuore liberarlo da tanta pula da tanti attaccamenti disordinati da tanti egoismi latenti che ci soffocano che non ci permettono di amare ecco il signore vuol portare avanti quest'opera di rigenerazione lo spirito santo vuol liberare la nostra vita vedete i miei cari quante volte viviamo nella tristezza perché ci rassegniamo alla mediocrità scoraggiati pensiamo di non farcela di non poter essere nulla più di ciò che siamo giovanni invece annunzia la venuta di colui che purifica il cuore che ci rende davvero capaci di amare uniti a lui possiamo essere santi possiamo diventare quel capolavoro di bellezza che lui ha sognato ora a questa prima coordinata per la gioia se ne affianca una seconda altrettanto importante giovanni abbiamo detto che annunciava la venuta del messia e le persone vanno da lui chiedendogli che cosa dobbiamo fare per prepararci è una domanda fondamentale che anche noi dovremmo farci spesso che cosa dobbiamo fare come ha detto bene papa francesco nel suggerirci questo interrogativo il vangelo ci ricorda una cosa importante la vita ha un compito per noi la vita non è senza senso non è affidata al caso no è un dono che il signore ci consegna dicendoci scopri chi sei e datti da fare per realizzare il sogno che è la tua vita ciascuno di noi è una missione da realizzare allora non dobbiamo aver paura di chiedere al signore che cosa devo fare cosa è bene fare per me e per gli altri come posso contribuire al bene della chiesa della società il tempo di avvento serve a questo a fermarsi e chiedersi come preparare il natale siamo indaffarati da tanti preparativi regali e cose che passano ma chiediamoci che cosa fare per gesù e per gli altri cosa dobbiamo fare giovanni da delle indicazioni molto concrete giovanni non è il signore che porta a compimento la legge ma indica la via della giustizia potremmo dire che indica la via del bene possibile la concretezza di un cammino di conversione che tocca la vita concreta di ogni giorno alle folle che andavano da lui chiedendo cosa dovessero fare giovanni risponde chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto cioè condividete noi a volte facciamo grandi discorsi sui poveri a volte persino ci serviamo dei poveri per sentirci bravi o mostrarci buoni oppure vorremmo fare chissà quali missioni affermiamo che qualora vincessimo il super enalotto daremmo la metà a chi ha bisogno e poi non riusciamo a condividere nemmeno un centesimo con un povero a invitare a casa una persona che non può ricambiare non riusciamo magari a trovare un accordo con un familiare giovanni è come se ci dicesse non sognare il bene che magari non farai mai ma parti dal bene possibile guarda i bisogni degli altri scopri che ciò che hai non è solo per te ma per essere condiviso poi abbiamo i pubblicani cioè quelli che facevano gli esattori delle tasse per conto dei romani che spesso le rincaravano per guadagnarci ulteriormente sopra se la tasse era 50 loro chiedevano 80 a loro giovanni dice non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato vuoi prepararti vuoi saggiare un po di gioia stai nella giustizia vivi in modo retto non esigere di più come a dire anche modera gli appetiti che ti portano a voler sempre di più e a non essere mai sazio e ai soldati giovanni disse non maltrattate e non estorcete niente a nessuno accontentatevi delle vostre paghe non maltrattare l'altro non essere prepotente non pretendere e si contento di ciò che hai vedete mi cari giovanni ci invita a rompere con il male e a partire da quel bene possibile che è alla portata di tutti che tutti possiamo compiere quel bene per cui siamo stati creati che dio ha iscritto nelle corde del nostro cuore noi possiamo dare a chi non ha noi possiamo essere giusti noi possiamo accontentarci di ciò che abbiamo noi possiamo vivere bene cari fratelli e sorelle che questa domenica possa aiutarci davvero a riscoprire le coordinate fondamentali della gioia cercando la gioia nel signore sperimentando la gioia seguendo il signore compiendo il bene possibile e in conclusione facciamo nostre le bellissime parole di madre teresa che ci consegnano in qualche modo una piccola grammatica della gioia un cuore gioioso è il normale risultato di un cuore che arde d'amore la gioia non è semplicemente una questione di temperamento è sempre difficile mantenersi gioiosi la gioia è preghiera la gioia è forza la gioia è amore e più dona chi dona con gioia ai bimbi e ai poveri a tutti coloro che soffrono e sono soli donate loro sempre un gaio sorriso donate loro non solo le vostre premure ma anche il vostro cuore può darsi che non si sia in grado di donare molto però possiamo sempre donare la gioia che scaturisce da un cuore colmo d'amore se nel vostro lavoro incontrate difficoltà e le accettate con gioia con un largo sorriso in ciò al pari di molte altre cose vedrete le vostre opere buone se sarete colmi di gioia la gioia risplenderà nei vostri occhi e nel vostro aspetto la gioia è assai contagiosa cercate perciò di essere sempre traboccanti di gioia ovunque andiate la gioia deve essere uno dei cardini della nostra vita è il pegno di una personalità generosa a volte e altresì un manto che avvolge una vita di sacrificio e di donazione di sé che dio vi renda in amore tutto l'amore che avete donato o tutta la gioia e la pace che avete seminato attorno a voi da un capo all'altro del mondo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti di